Ciao, allora dopo tre ore di viaggio siamo arrivati nel parco acquatico più grande d'Italia Allora siamo a Ondaland, il parco acquatico più grande in Italia Allora il parco ha una superficie di 220.000 metri quadri, non esiste un parco più grande di questo E niente il biglietto è costato 28 euro per adulto, invece i bambini sotto un metro non pagano Allora qua ci sono armadetti, eh sì Buongiorno amore Buongiorno Allora gli armadetti sono super tecnologici, quelli piccoli costano 5 euro, quelli grandi 7 Potete pagare sia in contanti che con la carta Vi verrà assegnato un numero, qua diceva di mettere il numero di telefono Comunque vi assegneranno un numero e il PIN ve lo danno sullo scontrino Questa è la mappa del parco che è veramente immenso e questi sono gli eventi da non perdere Questa come sapete o se non lo sapete è la mascotta del parco Ci sono tutti gonfiabili strani Che carini che sono Sì carinissimo Cioè guardate il furbacchione Quanti sono Eh Andato? Vediamo cosa c'è Subito Stupendo Allora Seth si è dato la pazza gioia di scegliere da solo dove andare Come al solito lui ci fa da guida Un vuotatore guardalo Sei un vuotatore tu Cos'è? Elefante 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 Il metto essenziale per la vita è l'aria Piano Moreno Trasforma e purifica È temuto e rispettato, signori e signori È in fuoco 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 È in fuoco